Oggi abbiamo visitato San Giovanni Valdarno, abbiamo visitato il Museo delle Terre Nuove e la Casa Massaccio. Continueremo più tardi nella prospettiva degli Uffizi Diffusi, un progetto che mette in collegamento e in sistema tutta la Toscana attraverso vari luoghi strategici come San Giovanni. Abbiamo visto che ci sono delle opportunità veramente splendide per collaborare sia attraverso prestiti a breve termine che anche dei prestiti a termini più lunghi, così anche come in altre maniere. Era veramente un territorio che vale la pena anche per il turismo da lontano, di essere scoperto e per chi lo conosce già superficialmente di essere riscoperto e approfondito, perché qui abbiamo proprio già un'infrastruttura museale che è un vero modello che ora grazie a qualche aggiunta strategica può veramente fiorire.